Sciroppo di agave fermentato e Tennessee Rye sono gli ingredienti principali della ricetta di Tennessee Fiesta, il cocktail che prepareremo insieme oggi. Innanzitutto grazie di essere qui, ma prima di cominciare, se non l'hai già fatto, ti invito ad iscriverti al nostro canale ed attivare le notifiche per non perdere gli aggiornamenti. Tennessee Fiesta è un'altra ricetta che abbiamo creato in collaborazione con Jack Daniels e si tratta di un long drink nato dall'idea di base di combinare whisky americano e sciroppo di agave. Subito mi è venuto in mente un Jalep, ma questa vaga intenzione ha portato poi in altre direzioni, in favore di un approccio meno banale che ha previsto anche la fermentazione dello sciroppo di agave. Ma facciamo una panoramica sugli ingredienti, partendo dalla parte alcolica, il whisky americano. Come whisky ho scelto il Tennessee Rye di Jack Daniels. Il Tennessee Rye di Jack Daniels, creato sotto la guida esperta del master distiller Jeff Arnett, è un whisky realizzato col 70% di segale, da acqua pura della sorgente naturale di Cave Spring Hollow a Lynchbrook, Tennessee, filtrato poi con l'originale processo del charcoal mellowing. Si tratta di un Rye Whisky speziato e complesso, ma allo stesso tempo morbido, grazie proprio al passaggio di filtrazione sui carboni vegetali. La linea dei prodotti Jack Daniels infatti non si limita solo al celebre old number seven, ma è molto più estesa e merita grande attenzione. Abbiamo avuto in Cocktail Engineering l'opportunità di testare tutta la gamma di prodotti in tantissime ricette e siamo rimasti molto soddisfatti dei risultati. A tal proposito ti invito a dare un'occhiata alla masterclass nella quale Francesco Spenoso, advocacy manager di Brownforma in Italia, un po' di tempo fa ci ha presentato due importantissime release di Jack Daniels, il Bonded e il Triple Mesh, due prodotti veramente eccezionali. Ti lascio il link nel testo. Tornando comunque alla ricetta, ti ho parlato appunto anche dello sciroppo di agave fermentato. Ho deciso di percorrere questa strada perché alla fine combinare semplicemente Rye Whisky e sciroppo di agave, magari aggiungendo un po' di menta, avrebbe sì rispettato la struttura di un jale, ma mi sembrava un po' banale. Perciò ho deciso di cambiare strada e fermentare lo sciroppo di agave seguendo lo stesso procedimento che di solito utilizzo per l'idromiele. Mi piace molto utilizzare fermentati di questo genere in miscelazione perché intanto sono molto semplici da preparare e poi danno ottimi risultati, specialmente se parliamo di prodotti non troppo evoluti. Inoltre stimolano anche la curiosità e l'invito a provare il cocktail, se questi ingredienti vengono scritti in un cocktail menu. Dicevo, questi prodotti se fermentati con tempistiche relativamente brevi, parliamo di periodi indicativi tra i 20 e i 40 giorni, sebbene questo parametro cambia in base alla temperatura ambientale, risultano abbastanza dolci, leggermente frizzanti e con dei sentori più complessi, nel caso dell'idromiele rispetto al miele comune. Caratteristiche queste che ho riscontrato anche fermentando lo sciroppo di agave, sebbene con sentori meno complessi rispetto all'idromiele. Questo ovviamente è dovuto alla natura degli ingredienti di partenza. Seguendo quindi questa traccia mi sono procurato lo sciroppo di agave e l'ho diluito con l'acqua, ma anziché lasciare che avvenga la fermentazione in modo spontaneo, come solitamente faccio per i idromiele, ho deciso di inoculare dei lieviti selezionati. Ho utilizzato dei lieviti appositi per questo genere di preparazioni di bevande. Mentre la fermentazione spontanea può portare a una maggiore complessità e varietà nel sapore e nel gusto della bevanda finale, la fermentazione con lieviti selezionati offre un maggiore controllo e uniformità nel risultato finale. Entrambi i metodi, quindi utilizzando lieviti selezionati oppure con fermentazione spontanea, hanno i loro vantaggi e possono produrre degli ottimi risultati. La scelta ovviamente dipende dalle preferenze personali e dal contesto in cui ti trovi a operare. Ho scelto quindi, come ti dicevo, di aggiungere lieviti selezionati, quindi per poter ottenere un risultato più standard e anche prevedibile, specialmente in vista della successiva aromatizzazione con del caffè che avevo in mente. Dopo aver fatto fermentare quindi lo sciroppo di agave per circa 25-30 giorni, ho filtrato il prodotto e sono andato ad aggiungere del caffè. Ho utilizzato un caffè monorigine di alta qualità proveniente dall'Etiopia, che presenta un po' di sentori agrumati floreali e di frutta matura. Questo caffè lo ho estratto, come si dice in gergo, a filtro, cioè con metodo pure over, utilizzando un V60, quindi non è un caffè espresso, c'è una grossissima differenza. Poi nell'articolo trovi i dettagli e i suggerimenti per quanto riguarda il caffè e l'estrazione, ma trovi anche tutti gli altri dettagli per la preparazione dello sciroppo di agave fermentato. Chissà, magari faremo anche un video a parte per questa preparazione. Torniamo alla ricetta. Per completare appunto il cocktail, infine ho aggiunto una piccola parte di succo di lime, giusto per bilanciare un pochino l'acidità e dare un po' di freschezza al cocktail. Prima di preparare il cocktail, però, due parole sulla decorazione. Il cocktail poteva concludersi così, magari mettendo come decorazione un ciuffetto di menta profumata. Ho deciso comunque di fare qualcosa in più. Ho preparato tre diversi gel fluidi ai sapori di menta, fragola e lime e che poi ho versato sopra ad una striscia di cioccolato bianco posata poi sul bicchiere. Ho creato questi gel in modo che risultino estremamente facili e molto veloci da preparare usando un additivo che si chiama Ultratex di Special Ingredients. Qui in ogni caso trovi anche di questi gel la ricetta con tutti i passaggi nell'articolo sul sito dove presto poi ci sarà anche un video dedicato a questa preparazione. Questo elemento decorativo, che è anche un elemento funzionale, grazie a un bel tocco di colore, si lega anche al nome del cocktail, Tennessee Fiesta. È un nome che evoca l'unione tra i due ingredienti principali, appunto, che sono Tennessee Whisky e Agave, tipico prodotto messicano, ma anche un po' l'unione tra il calore e la tradizione del Tennessee Whisky e l'energia e l'allegria tipiche delle feste messicane. Allora, andiamo prima di preparare il cocktail, prepariamo la decorazione. Ho tenuto in frigo per evitare che si sciolga. Allora, per preparare la decorazione, semplicemente andiamo a versare un pochino di gel di ogni colore sul cioccolato. Un bellissimo tocco di colore, ovviamente come avrei potuto notare per quanto riguarda il gel del lime, ho utilizzato un po' di colorante alimentare, per dare un colore un po' più acceso. Adesso mettiamo un attimo da parte la decorazione. prendiamo il bicchiere dal freezer e andiamo a preparare il cocktail. Come bicchiere ho utilizzato questa mug in ceramica dall'aspetto un po' semplice e minimale, a parte che adoro questo materiale per la sensazione tattile che produce, ma ho fatto anche questa scelta per nascondere un po' il colore che è un po' alla fine esudo un po' color Coca-Cola con ghiaccio, quindi volevo evitare che si vedesse questo aspetto utilizzando, insomma, ho preferito questa soluzione. Quindi decorazione preparata, andiamo a versare gli ingredienti, quindi versiamo 35 ml di Tennessee Rye. andiamo a versare 100 ml del nostro sciroppo di agave fermentato aromatizzato al caffè, 30 ml di lime. assaggiamo per valutare il bilanciamento, perfetto, andiamo a mettere qualche cubetto di ghiaccio, mescoliamo delicatamente per raffreddare, cercando di preservare il più possibile la già delicata effervescenza della bevanda fermentata, riempiamo con altro ghiaccio se necessario e a questo punto andiamo a posare la decorazione sul cocktail. Il drink è pronto, all'assaggio risulta dolce, si sente il sapore del prodotto fermentato, si sente un po' il caffè in maniera molto delicata, ha una buona acidità fresco, il whisky è presente, si sente, ma è integrato perfettamente nella ricetta e la sensazione alcolica è molto piacevole e non disturba affatto. E a proposito di gradazione alcolica, concludiamo dicendo che questo drink ha un tenore alcolico di circa, del circa 11%, circa ovviamente perché ci giochiamo a qualche grado con il fermentato, io ho stimato un circa 3%, ma per stabilirlo con precisione dovremo utilizzare gli strumenti analici dal laboratorio, molto più complessi. Quindi la percezione alcolica complessiva del drink appena servito sarà medio-bassa, mentre i grammi di alcol etilico in senso assoluto che verranno assunti dal corpo in seguito alla bevuta sono circa 14,8, giù di lì. E per quanto riguarda Tennessee Fiesta è tutto, io ti ringrazio per aver guardato questo video, che tu sia un bartender professionista, un semplice appassionato, spero di averti fornito utili spunti e ispirazioni per le tue creazioni. Se è così, iscriviti al nostro canale e attiva le notifiche per non perderti i nuovi video. Ti ricordo anche che sul nostro sito www.cocktailengineering.it c'è un mondo di altri contenuti che ti aspetta. Buona miscelazione, buone preparazioni e arrivederci al prossimo video. Grazie a tutti.